Ha prenotato Zecche, rosse, comunisti, delinquenti, criminali da centro sociale, non lo so, definiteli come volete voi Appena entrato ho capito che lei è un cretino Però quello che abbiamo visto ieri a Bologna e a Milano è qualcosa di indegno, di vergognoso che non si deve più ripetere La caccia al poliziotto dei delinquenti rossi a Bologna o la caccia all'ebreo dei delinquenti rossi a Milano Mmm, com'è buono sto minestrone, un combustibile così lo fanno solo Santa Margherita Ligone Sono scene vergognose per il 2024, chiude i centri sociali occupati abusivamente per i comunisti Ma lei è proprio un cretino E sono ritrovi di criminali, questo dobbiamo fare Questo è un locale elegante, peccato che una clientela cretina lo stava vogliando Altro conto prendere assassati i poliziotti o dar la caccia all'ebreo Nel mio paese, nell'Italia libera e democratica del 2024, queste scene non si possono più vedere Quando sento certi discorsi mi va il minestrone al cervello Se non vai via, entro 20 secondi ti spacco la faccia Crettino! Pazzo!